Dichiaro aperta la seduta numero 46 del Consiglio regionale. Prego per l'inno nazionale. Sindaco, buongiorno. Abbiamo portato i manifesti abusivi con cui imbrattate la città quotidianamente. E se il sindaco è il primo a fare le affissioni abusive, non c'è bisogno, è un regalo per il sindaco, siamo qua pacificamente. Cittadini, non c'è bisogno di fare questo. Il ruolo dell'amministrazione con quello che fanno i partiti. L'amministrazione deve riprendere, deve sanzionare questa... L'amministrazione sanzionerà, sanzionerà, coprerà manifesti, farà pagare il primo che... La parola all'assessore Cangemi. Grazie Presidente, volevo dare alcune notizie, ma forse possiamo dire che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.